Giacomo, ti aspettiamo un secondo, facciamo il giro Francesco, ma secondo te avevano la Juve in testa stasera? Sicuramente? Avevano la Juve in testa. L'Inter? L'Inter. Scusa, l'Inter in testa. Ma io, più che, allora, secondo me non tanto durante... Certo, dire della Juve che aveva la Juve in testa, tanto... Sì, la Juve probabilmente aveva la Juve in testa perché la ricercava in se stessa, potrebbe anche essere una metafora di... Siamo quasi già alla quarta ora, quindi ci sta insomma. No, no, ci sta, ci sta. Allora, guarda, io all'inizio, sicuramente con l'approccio della gara, no. Però io ho sottolineato subito il fatto di voler vedere una squadra reagire di fronte a un momento in cui ti vedeva. In classifica in Champions ho smesso benissimo, anche inaspettatamente per quello che si è visto, soprattutto all'Ipsia, per come è andata la gara. Hai segnato tanto, stai giocando contro una squadra che subisce molto, ma attacca molto bene, quindi il tuo approccio mentale alla gara può essere molto, molto rischioso, anche perché c'è l'Inter domenica e quindi dici, magari stasera con un pareggio o con una giocata all'ultimo ce la caviamo, loro subiscono, non difendono bene. In realtà la Juventus stasera ha avuto un problema enorme, non è che ha perso la partita e basta, ma non ha mai avuto in controllo la gara, un secondo. Cioè la palla, come i bambini dell'asilo, degli elementari, stasera dal primo all'ultimo minuto, tranne dal 65-85, quei dieci minuti di cambio post-rigore, post-gol annullato, sono stati un attimo così, sembravano raddrizzare la cosa, in realtà poi non è stato questo. Cioè la Juve è stata sovrastata e schiacciata da uno Stoccarda che stasera aveva voglia di giocare a pallone contro una squadra che non ne aveva assolutamente in mente niente di tutto ciò. Borelli, cosa sta dicendo Diago Motta? E adesso torno all'auricolare. Borelli, Borelli, Borelli l'ha sentito. No, io l'ho sentito, sì. Ok, comunque ha descritto la partita che abbiamo visto anche noi, non ha ancora dato una motivazione certa, ha detto certo a un certo punto che si gioca... Ha ammesso, eh? Sì, ha detto che si giocano partite ravvicinate, però ha detto che noi volevamo avere il controllo della partita, invece l'hanno avuto sempre loro, hanno strameritato, però noi puntiamo anche a fare già dalla prossima volta di nuovo una buona partita, non possiamo rinunciare a essere competitivi sia in campionato che nella Coppa, però non ho sentito finora ancora la motivazione vera che lui dà. Probabilmente i giorni ravvicinati è stato il motivo che ha sottolineato. Posso aggiungere una cosa, Michi, a quello che stai dicendo? Sì, presentiamo Baggigia, vai. Sì, al volissimo. Io questa sera ho visto le gambe mancare, l'avete detto più volte, anche Paolo, più volte ha detto questione fisica, eccetera, eccetera. Guarda caso questa situazione arriva prima dello scontro diretto di quest'anno, che l'anno scorso ci ha fatto crollare il mondo Serie A addosso, nel senso che la Juve arriva a San Siro dopo il pari con l'Empoli, comunque lì, perde quella partita e da lì per due mesi fa dei disastri. Secondo me questi spettri attorno a alcuni giocatori di questa squadra ci sono ancora, perché, ripeto, stasera è stata troppo brutta, cioè si è vista la Juve a più facci in questi due mesi, ma mai come stasera, subire, non ripartire, non reagire, e il portiere ha cercato di farla in tutti i modi sua, la partita pareggiandola, ma Perino a un certo punto deve dire basta. Baggigia. No, la stavo sentendo Tiago Motta. Sì, allora, tu sei l'esegeta, quindi ci traduci il pensiero, no? No, praticamente gli è stato fatto notare... Dopo il Dio dell'Antico Testamento Ibrahimovic devi... No, no, gli è stato fatto notare che al di là della sofferenza, perché loro avevano spesso la palla, però gli è stato detto, ma le volte in cui l'avevate voi ci avete attaccato male con poca personalità. Lui questa cosa l'ha ammessa, dicendo che però tutto nasce da un equilibrio, dice se tu non ti difendi bene poi hai poche opportunità per offendere. E gli hanno chiesto se la scelta di avere così pochi attaccanti ed essere costretto a mettere azici a un certo punto stasera è stata condivisa con la società, perché dice una squadra come la Juve non può avere un solo attaccante. Questo secondo me però è un tema, no? E lui ha detto, tutto quello che è successo è stato condiviso con la società. Io sottolineo d'agosto, tra l'altro. No, questo è un grande tema, scusate, che ci accompagna dalle discussioni che abbiamo fatto già ai primi di settembre personalizzate su Vlaovic. Sì, no, poi la posizione di Vlaovic, poi Vlaovic segna le doppiette, poi Vlaovic sbaglia il gol con Cagliari. Però il tema è che non puoi fare un reparto con una persona sola. E se non hai scuse, mi sento campisti forti che girano come con me e Zernico González, se inseriscono e segnano, e dubbiamente poi diventa un problema. No, però perché noi ragioniamo in modo convenzionale, come si ragiona sempre, una squadra forte deve avere più di una regala. Il calcio è fatto di convenzionale. Però lui, secondo me, non dice una bugia. Io seguendo anche un po' il mercato della Juve, cioè dicendo che ha condiviso tutto, perché il suo calcio non è così dipendente dal classico centroavanti. Infatti lo scorso anno non ce l'aveva il centroavanti, anzi. Quando lui aveva Arnautovic, anche l'anno prima, anche González non lo facevano a scuola. Però Paolo non giocava tre partite a settimana. Scusate, io ricordo la discussione che è stata fatta quando Zig Z doveva essere preso dal Milan, da quelli che dicevano sì o no. E non è che dicevano sì o no perché non fosse un grande giocatore, un giocatore interessante o comunque rivelazione, ma perché dicevano che non era adatto al gioco del Milan, era meglio prendere Dobvik, ti ricordi? No, no, ma il Milan avrebbe voluto prenderlo. Lì non l'hanno preso, non per una valutazione tattica, l'hanno preso perché non hanno voluto alzare le commissioni praticamente. E' solamente che, concettualmente, il calcio di Tiago Motta può darsi che stasera abbia cambiato idea, però io ci credo che lui avesse condiviso quella scelta di avere più mezziali, più centrocampisti offensivi, e magari, oh, parentesi, il budget della Juve non era il limitato. Cioè, c'era una missa, no? Ma mancano i giocatori, stasera Douglas Lewis e Cobainers, non che mancano nella rosa, mancano disponibili. Ah, ma è chiaro. Cioè, stasera Cobainers e Douglas Lewis. Soprattutto Bremer e Bili. Bremer. Quindi, non è un errore di programmazione. No, ma, però Capello ha fatto una domanda, secondo me, molto pertinente. Il fatto che quando noi andiamo in Europa, vedi anche il Ruggi, che non è uno squadrone, però se non stai con la testa giusta, ti metti in difficoltà. Ma questo l'abbiamo visto con chi oggi lo stoccata. Qualsiasi squadra lo può fare. Qualsiasi squadra. Anche il Ruggi colmio. Ma il Ruggi stesso. Tiago Motta, la novità per Tiago Motta è anche gestire non solo una rosa, diciamo, che deve lottare per vincere, ma anche domenica, mercoledì, domenica, mercoledì. No, giocare in Europa, un calcio più aggressivo, che evidentemente... Però scusate un secondo, io ritorno alla mia idea. Siamo su questo punto, però, perché ora, al di là dell'infortunio di Bremer, che è sicuramente un problema per la Juve non previsto, no? Grande difensore, che era importante nel gioco di Tiago Motta, che doveva essere sostituito. Sì, però stasera anche se hai Bremer, subisci tutte le zone. Però mettiamo in fila un po' le cose sui giocatori, no? Allora, Bremer non c'è. Due acquisti importanti, come con Meners e Nico Gonzalez, non ci sono. E neanche Douglas. Ma al di là di questo, pur con tutti questi, il problema di questa concezione di come deve essere l'attacco della Juve, rimane, però, che se c'è una discussione infinita su Vlaovic. Allora, però, se Vlaovic non va bene, prendete un altro tipo di attaccante, no? No, ma, Bremer non è che non va bene. Posso dirti una cosa, Paolo? Beh, non è neanche semplice per un altro tipo di attaccante. Però non è Zirkze, come le caratteristiche. Però, però, Vlaovic non è che lo puoi vendere. Però ragazzi, stiamo mettendo un fatto, secondo me, che lo Stoccarda, che è la decima squadra tedesca, come cambio in attacco a un 10 che all'Atalanta è arrivato per spaccare il mondo ed è stato poi andato in prestito in Germania, e che stasera entra e fa una giocata da 10 vero e fa quello che mezza Juve offensiva non fa. Cioè, il passare... Io capisco che tu devi rivoluzionare tutto il mondo Juve, quindi devi svernare, devi prendere giocatori giovani. Ripeto, è la seconda squadra più giovane in Serie A e la quarta in Europa tra le big. Questo è meritorio. Quindi, costruire in un'annata così è difficile quando tu vuoi anche giocare. Scusami, Max, finisco. Però, però hai fatto perdere il filo. No, ma ho capito quello che volevo dire. No, se lo facevo un discorso, è un quarto d'ora, sono due ore che parlo, fammi finire una frase, perché se ogni volta, anche in telecoma, che mi metti dentro la lingua... Ho capito quello che volevi dire e sono d'accordo. Sai che posso andare avanti come un'automa, eh? Stavolta sono eseggetto a tuo, perché ti dico... Stavo dicendo una cosa importante che non mi ricordo più. Ma ti abbiamo interrotto in telecronica in modo scortese, no? No, 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 no. È che facevo fatica a volte a fare la cronaca perché dovevo salire sulle voci. Allora, la questione è se sto dicendo una cosa adesso non mi interrompere, Max, per favore, perché se no mi passa di mente, mi è passato di mente. Vabbè. Adesso proviamo a recuperare il ragionamento che volevi fare, insomma. Però io... Sulla gioventù. No, no, io stavo dicendo su quello che... Su stesso ragionamento che ha fatto Francesco. Il mio finale era quello. E l'ho finito? No, ti dico quello che penso io, vediamo se è quello che pensavo qui. Ok, ok, ok. Magari è lo stesso, dici. Non è che forse Tiago Motta non è stato... Cioè, si è fidato troppo della sua bravura e quindi non ha detto io prendo un'altra punta. Ha detto io sono così bravo che faccio a meno. Ma no, ma è un discorso... Ma è un discorso... Eh, non vorrei... Ma come uno... Si fida della sua bravura. No, nel senso, io dico sono talmente bravo che posso farmi anche un campionato con l'audice mili che basta. Ma perché deve essere... No, no, sto dicendo... Uno Tiago Motta, uno... Questo è l'esegeta che viene fuori. Ma no, ma scusa, ma è un discorso da bar, dire uno... No, è un discorso da bar, un discorso da un uomo che ha personalità. Un uomo che ha personalità, sto dicendo che ha personalità, però attenzione. Ma scusami un attimo, intanto si confrontava con un dirigente che ha fatto un mercato che non è un ragazzino, non è l'ultimo arrivato e quindi non è che decideva Tiago Motta, ok? Casomai è il contrario, Tiago Motta ha condiviso un progetto della società. Se poi, non è questione di essere troppo bravo o meno bravo, ma se il suo concetto di calcio è quello lì... Cioè, adesso è un falso problema, stasera mi hanno perso perché non ha un altro centravanti da mettere dentro. Ok, signori, io però adesso... Cioè, scusami Claudio, il centravanti che ha tenuto in campo fino al cambio, Vlaovic, che sicuramente non è una pippa... Non è mai arrivata la palla lì. Non è mai arrivata una palla. Scusate un secondo, però, scusate un secondo. Spero che Francesco recuperi il suo ragionamento, facciamo pubblicità. Non era vitale, cioè, ovvio che in quel momento lì... Ti sei arrabbiato. Ti ero canalizzato. No, ma già la senata non è delle migliori. Scusate, vi ho parlato sopra durante la telecronica, ci scusiamo. No, 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 scusami, scusami, mi sono spiegato male Claudio, nessuno ha parlato sopra, è che ogni tanto, sentendo borbottare, io so che devo alzare il volume della voce e quindi faccio mi fatica. No, anzi, mi sa, poi c'è qui Borrelli che ci ha preoccupato per il campo sintetico. Eh sì, sì, tensione. Eh no, oggi in Zaghi abbiamo fatto tanto. Non mi che ci vuoi due a giocare sul campo. No, io no, appunto, però si rischia l'infortunio quando non si è abituati, tanto che oggi sono andati proprio in anticipo rispetto alle solite abitudini per allenarsi. Per il campo sintetico. Mensa non facit saltus, teniamo un po' di logica, visto che prima vi siete accavallati, ma ci sta nei talk calcistici ogni tanto. Ci mancherebbe. Non è una lezione universitaria per fortuna. E qualcuno vuole finire un ragionamento che aveva impreso, che abbiamo interrotto sulla Juve e poi cambiamo. Per finirlo, cioè secondo me, non è che perché stasera è arrivata questa sconfitta netta, non nei numeri ma nelle proporzioni, che va messo sotto accusa Tiago Motta, che ho sentito dire la sua presunzione, il suo ego, la sua roba. Cioè semplicemente hai trovato una squadra che andava al doppio e voglio dire può capitare, però non è che adesso perché hanno perso una partita loro ti hanno votato. Però questo problema del gol c'è indipendentemente dalla prestazione. In Europa ha fatto sei gol in due partite? Affrontando PSV e Lipsy. Il problema della punta, cioè non è un problema ancora. No, c'è, c'è. Sì, Paolo, la Juve è sempre stata in controllo quest'anno, stasera la novità è che non è stata mai in controllo, ha calato completamente i ritmi e quindi bisogna capire se è perché stanno giocando troppo gli stessi per gli infortuni e quindi è un periodo adesso in cui o recuperi i giocatori o vai in difficoltà, oppure se è semplicemente una cosa temporanea. Ma anche perché, scusa Claudio, perché poi, cioè voglio dire, adesso uno va a fare le pulci, va bene, facciamo pure le pulci. Cioè ma questo è un progetto completamente nuovo. La seconda squadra più giovane in Italia, giocatori nuovi, un modo di giocare a calcio nuovo rispetto al passato, è chiaro, vai a vedere, cioè a fare il pelo nell'uovo, però mi sembra che il bilancio sia positivo. Cioè stasera no, assolutamente, stasera siamo sorpresi, ma stasera siamo sorpresi di calcio, è giusto criticare. Sconfitta pesante nelle proporzioni, non nei numeri, però il discorso del centravanti stasera non c'entra un tubo. No, guarda, anzi, tra forza un tubo. Io sono d'accordo su questo, ma non c'entra sulla partita. Paolo, sono d'accordo su questo. Volete parlare della partita e il centravanti non c'entra un tubo. Ti dico una cosa per poi andare su altro, l'ultima cosa. Guarda caso, è un caso, sarà un caso, non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo, ma la Juve perde Bremer e in tre partite prende due gol e ne perde una e ne pareggia un'altra col Cagliari. Io dico solo che questo è un dato che può essere anche analizzato in mille modi diversi, ma è un dato oggettivo perché Bremer, la tranquillità che dà tutto il reparto con la sua presenza, è un'altra cosa rispetto a Danilo, Gatti. Cagliari è l'unico che si salve in questo senso. Sì, però Francesco, tu stasera non è che dici hai perso o sei stato dominato perché ci sono stati troppi svarioni difensivi. Sono d'accordissimo. Sei stato dominato in tutte le zone del campo. Però dove passa il Bilal Tureli c'è Bremer di solito, magari non passa. Dove c'è il rigore Danilo e Bremer quelle robe non le fa. Con Cagliari il fallo di Douglas Lewis lo fa Douglas Lewis in una posizione in cui di solito gira Bremer. Sì, sì, no, ma quello è possibile. In tre partite hai preso improvvisamente due reti e ne hai persa una e un pareggio con Cagliari. Quindi questo è un dato che comunque si può analizzare. Cioè, quello è vero, su un progetto nuovo... Giocatore troppo importante per la Juventus, quello. No, no, certo, poi su un progetto nuovo, totalmente giovane, ti viene a mancare uno come Bremer che è forte ed è esperto. Esatto. In una squadra nuova che comunque ha fuori sempre un sacco di giocatori. Esatto, concordo. Stasera ci può stare, però stasera non c'è niente centra. Io scusate un secondo, ma non ho capito da Paolo Marcello se la classifica poi c'è o non c'è. Se c'è la vediamo perché l'ho vista prima. Allora guardiamola al secondo perché c'è la Stombilla, mi sembra l'unica. L'unica a punteggio pieno, è la famosa sta... Il colore verde vuol dire quelli che vanno direttamente agli ottavi, giusto? Sì, esatto. Quindi a Stombilla, io però ho bisogno che me la date, provo a leggere qui. Ecco qui, a Stombilla è l'unica a punteggio pieno. Monaco 7, Sporting Lisbona 7, Arsenal 7 punti, Dortmund nonostante che ha perso a 6. C'è il Brest a 6, Benfica a 6, Leverkusen a 6. E poi vedete, quelli in Celestri sono quelli che vanno a fare il playoff, giusto? C'è il Real Madrid che comunque a sé perché non contano solo i punteggi. Lo vuoi ripetere un attimino? A parità, lì ci sono tante squadre a 6, però per esempio il Real Madrid ha più 4 differenze reti, la Juventus ha più 2, quindi sono sotto Leverkusen e Benfica che sono a più 5. Ci sono però, oltre il punteggio, oltre i gol differenze reti, altri 4 parametri sono sbagli. Poi abbiamo una grafica tra l'altro, la grafica dei criteri, il caso di Arresi. Dopo la facciamo vedere, pensiamo un attimo sulla classifica e poi facciamo vedere anche la grafica perché così, diciamo anche i tifosi che seguono il Network Calcio Show, stavo dicendo Network Calcio Show, e alla fine hanno le informazioni giuste per decodificare quello che diciamo, essendo un meccanismo nuovo, poi c'è Liverpool a 6, Juventus a 6, alcune giocano domani, Manchester City a 4, Inter a 4, Spartapraca a 4, Atalanta a 4, Stoccarda a 4, Paese in Germania a 4, Bayern Monaco a 3, Barcelona a 3, Milan a 3, Lilla a 3, Celtic a 3, Friano a 3, questi andrebbero a fare i play-off, cioè si scontrano per andare in avanti. E poi questi vanno a casa con questo colorino qui, giusto? 12 squadre, le ultime 12. Atletico Madrid, Decker-Bruge, Endoven, Bologna, Schachta, Tiremo Zagabia, Ripje, Sturm, Grazi, Salzburgo, Young Boys, Stella Rossa e Slava-Bladislava, è una classifica parziale, perché questo turno, che è il terzo, non è finito. Non si ha giocato tutto, ma lì delle nobili decadute, fra virgolette, per adesso c'è solo l'Atletico Madrid, le altre ci stanno tutte che vanno a casa, no? Tutti quattro, non so se abbiamo la grafica dei meccanismi, diciamo, di interpretazione, eccola qua, vai, viaggi dalla tua Borrelli. Quindi c'è la differenza reti, questo è a parità di punti, poi i gol fatti, in caso di parità di differenza reti, poi i gol fatti fuori casa, numero di vittorie, numero di vittorie fuori casa, per esempio l'Inter con il Manchester City l'ultima volta aveva tutto uguale, però il Manchester City ha fatto quattro gol fuori casa, l'Inter in casa, quindi davanti il Manchester City. Punti poi delle squadre avversarie, se ci dovesse essere ancora parità, conta chi hai affrontato, quanti punti ha fatto, più punti hanno fatto le avversarie, più vuol dire che ha avuto un percorso difficile. Poi differenza reti delle squadre avversarie, gol fatti delle squadre avversarie, se ancora è tutto parità, c'è il punteggio disciplinare e il miglior coefficiente del club, il punteggio disciplinare si calcola come tre punti, cartellino rosso, un punto e il cartellino giallo ovviamente devi avere un punteggio totale più basso. Chi paga meno IMU per lo stadio non c'è? Che vuol dire migliore? Però può capitare questo. Che vuol dire migliore? Oggi sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Miglior coefficiente del club che vuol dire? E quello è il coefficiente del ranking UEFA, quindi lì hai il tuo ranking di partenza, vieni premiato solo perché hai fatto meglio negli ultimi anni. Allora, questo era giusto darlo, mi dicono dalla regia, Paola Marcello ho trovato su internet, su Instagram, questa cosa, visto che stasera abbiamo citato, questo è l'anno diciamo biblico perché c'è Dio Ibrahimovic, io sono il padre con una sinistra bargigia, con l'ermeneutica, poi abbiamo citato il cinema e qui che dice qua a un certo punto? Dio sa come il mio cuore è puro, ormai ci mettiamo a fare filosofia, invece che pensare di giocare a calcio facciamo filosofia. Quando è che dà messa insieme ai bravi? Secondo me lui ha sentito quelle cattiverie. Quando è che dà messa insieme ai bravi? No, secondo me, tenete questa immagine, lui ha sentito le cattiverie che aveva detto voi, non io, su di lui quando è uscito dalla cosa. Le ripetiamo tutti Claudio. Lui non è malizioso, è con la coscienza a posto ed è un campione in serenità con se stesso e chi dice che è in crisi e che è uno che contesta l'allenatore, che non gioisce con gli altri, che fa con il break, c'è il riferimento a gioire con gli altri. No, però voglio dire, lui di carattere permaloso, rosica, non ti ricordi che aveva risposto pure a Salvini? Sì, sì. Cioè, vuoi dire, risponde a tutti. A Salvini risponde a tutti. E' più attento a ciò che accade sui social e a tutto il resto, piuttosto che a giocare in campo e a fare quello che ha fatto Ocafor nel gol del 2 a 1. Perché lui basterebbe che facesse questo? Ma lui risponde anche ai tifosi del Milan. Sì, sì, lui sì. Cioè, quindi, voglio dire, il ragazzo risponderebbe anche a lui. Il ragazzo è permaloso, comunque, no? No, insomma, l'ha messa in alto la questione, perché addirittura ha parlato su un rapporto di un dio. Su un piano divino? Divino? No, un rapporto comunque spirituale, adesso, se non vogliamo… Poi su queste cose devo dire, adesso io sono serio, spesso scherzo, gioco, poi mio figlio, ho quasi diciottene, dice, io gioco troppo e c'è troppo in casino la comunicazione, però quando non gioco lo dico, così almeno è chiaro. Su queste tematiche, su queste simbologie, su queste parole io vado sempre delicato, perché quando una persona, non un giocatore, cita questi elementi un po' religiosi, un po' spirituali, faccio sempre un piccolo passo indietro perché è una cosa sua, di psicologica, ripeto, anche spirituale. Ma cosa può voler dire? Fare ironia, no, io ho l'interpretazione che mi viene in mente se, al di là del significato del suo equilibrio spirituale con se stesso e con il suo dio, è che la risposta e le polemiche, le critiche gli vengono fatte, diciamo, anche oggi, no? Sul suo comportamento. Non ti piace la mia lettura religiosa che ho fatto? No, benissimo, quello che a me non torna è, perché non puoi dare mai una spiegazione di altro tipo e andare sempre su questo tipo di cose molto astratte o personali, perché così è indecifrabile quello che dice alla fine, cioè rimane un po', rimane molto, rimane opinabile per tutto. Facciamo un'interpretazione logica, voi mi criticate, io sono a posto con me stesso e con ne ho addirittura un livello altissimo, di serenità, di equilibrio, che vanno di là delle cose. Ma questa è un'escusazione appetita, però. Sotto nei commenti. Sentiamo cosa dici? Ci sono alcuni giocatori del Mina che hanno apprezzato con dei cuori, tipo Mignan o come Reinders, Emerson. C'è l'Ai di Fonseca? No, almeno non lo vedo. Che è successo? Chi è che parlava? No, volevo leggere anche io i messaggi. Ho visto delle voci del buio in un film, questo è l'ultimo film della sera qui a pensavo, voci del buio. Sono gli spiriti di silenzio. Voci nel silenzio. C'è una voce importante, voci nel diminuto, adesso facciamo più un ritmo da DG. Notizia, prima notizia, Arsenal in ansia per Calla Fiori. Vai Borrelli, dì. Eh sì, un movimento innaturale per prendere il pallone, il ginocchio si è girato, quindi si aspetta adesso l'esito, dico e speriamo che possa non essere così grave come sembra. Il fermo immagine è brutto. Il fermo immagine è brutto. Sistiamo legamenti, purtroppo poi lui aveva già avuto un grande infortunio che l'aveva ha tenuto fuori dai campi per un anno quando era ancora alla Roma, quindi tra l'altro la nazionale perde un pezzo importantissimo. Peccato per lui come persona, come giocatore, come uomo. Peccato per l'Arsena e peccato per la nazionale. Sentiremo ovviamente gli aggiornamenti domani. Inzaghi numero uno, prima della partita di domani, lo Young Boys. L'idea dello Young Boys, ma anche il pericolo di avere la testa alla Juve. Sentiamo. Che rischi presenta questa partita? Le chiedo anche se inconsciamente c'è il rischio per voi di pensare già alla Juve. No, questo pensiero non ci deve essere perché sappiamo il nostro modo di ragionare che è partita dopo partita. Adesso sappiamo che domani avremo lo Young Boys. Lo Young Boys è una squadra che l'anno scorso ha stravinto il campionato. quest'anno ha avuto qualche problema iniziale, ha cambiato l'allenatore, domenica hanno battuto il Lucerna che era in testa della classifica. È una squadra fisica, è una squadra che fa le coppe da tanti anni, è una squadra a cui bisognerà fare molta molta attenzione. Per quanto riguarda le rotazioni, chiaramente abbiamo avuto un problema traumatico di Aslani. il venerdì l'ultima palla dell'allenamento e quindi abbiamo avuto quel problema. Il Sanaloglu ha avuto il problema domenica, quindi chiaramente le rotazioni a metà campo sono limitate. Zelischi ieri ha fatto una buona parte dell'allenamento, le sensazioni sono buone, ma manca ancora l'allenamento di oggi e quindi dovrò fare delle valutazioni. Vabbè, che è successo? Salute, salute. Terzo Inzaghi, l'effetto della vittoria sulla Roma. Sentiamo. Non lo so perché è difficile, insomma, capire. Io quello che posso dire è che sono quattro anni che allenano l'Inter e quattro anni che vinciamo a Roma con la Roma. Prima mi sembra che fosse successo molto meno. Poi chiaramente abbiamo abituato in un determinato modo. L'anno scorso avevamo vinto facendo tre, quattro gol in un modo diverso. Probabilmente il primo tempo l'anno scorso avevamo sofferto molto di più a Roma. Io posso dire solo quello che ho detto alla fine della gara ai ragazzi. Gli ho fatto i complimenti perché abbiamo giocato in condizioni difficili. Al ventisettesimo del primo tempo avevamo finito gli slot. Hanno dimostrato un grandissimo cuore i ragazzi. Poi se pensiamo che dobbiamo andare a Roma su questi campi molto, molto difficili, è la storia dell'Inter che lo dice. Con vincere tre, quattro gol di scarto è difficile perché abbiamo dei avversari di fronte. Avevamo di fronte una Roma che ha qualità, che ha investito molto nel fare la squadra. Quindi io mi sono preso una grande prestazione, una vittoria importante che ci deve far proseguire nella striscia di vittorie che stiamo facendo, sapendo che siamo all'inizio di queste sette partite di venti giorni, dove purtroppo abbiamo avuto delle problematiche che dovremmo essere bravi a risolvere il più presto possibile perché chiaramente ho bisogno di tutti. Tutto mercato where? Lui si è soggetto all'Ermeneuta. Tu sei l'Ermeneuta. Che voleva dire? Su quest'ultima il discorso della Roma. Perché si è andati a fare le pulci su questa vittoria, però non è stata un'Inter dominante, ha sofferto nel finale. Lui dice, allora, va bene che vi stiamo abituando bene, ma da quando sono arrivato io, sono quattro anni che l'Inter vince a Roma, non è che dobbiamo vincere forza 4-0 in casa della Roma. Però uno può fare fatica o meno, se fosse questo negativo, ha vinto a Roma. Io ho sempre vinto a Roma, mi dice, non mi pare che prima fosse una cosa tanto comune. Lì si è preso. L'ha fatto bene. Formazione probabile per domani. Sì, allora, ci sono tanti cambi. Allora, in attacco dovrebbero partire Tremi e Arnautovic, Bastoni e Di Marco. Ma tu te lamenti che ti si parlano sopra te e poi interrompi sempre gli altri. Come mai? Come mai tanti cambi? Chiedo Michele, cosa succede? Tanti cambi perché Roma, Ianguoy, Juventus. Che ce lo facciamo? Il tavolo del molesto. Bastoni e Di Marco. Molestato molesto. Bastoni e Di Marco, un po' stanchi e quindi da quella parte dovrebbero esserci Bissek e Carlos Augusto. A centrocampo non si può cambiare perché l'ha spiegato, sono infortunati, ce l'hanno due aslani. Mentre Zelischi alla fine, stringe i denti, va in Svizzera e potrebbe fare, per esempio, l'ultima mezz'ora da regista, detto al posto quindi di Barella. Dunfris a destra, Pavarra, anche lui con De Vrij, giocano e queste sono le notizie della formazione. Per quanto riguarda Cerbi, elongazione al bicipite. Ecco, nota della società, comunicato dell'Inter sulla Cerbi, vediamolo se ce l'abbiamo oppure se lo diciamo. No, no, dico io, voglio un'elongazione al bicipite femorale della... Dici foto, foto, scritta, foto del tuo telefonino, non è ci sono i pressaggi tuoi personali, no? No, no, no. Ecco qua, per leggerla, mettete il cannocchiale a casa, vendete il cannocchiale. No, ma lo leggiamo, lo leggiamo, dai, si legge. Vai, vai, leggi, dai. Allora, vado al succo, è un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, quindi situazione che verrà valutata giorno dopo giorno. Che vuol dire? Che non è uno stiramento, non è una lesione, giorno dopo giorno vuol dire che non è detto che sta a fermo più di dieci giorni, però la Juve la salta. L'elongazione è tra la contrattura semplice e il primo grado. E quindi non c'è, non c'è, non c'è. Diciamo che potrebbe tornare tra Empoli e Venezia, c'è tra il 30 e il 3 novembre, 38 e il 3 novembre, con la Juventus difficile. No, volevo dire, sulla formazione probabile dell'Inter di domani c'è una cosa particolare, secondo me, cioè che ruotano tutti i reparti, tranne il centrocampo. Perché a centrocampo giocano Frattesi, Barella e Mkhitaryan, che saranno gli stessi di San Siro con la Juve, credo. No, con la Juve, no, con la Juve torna a Slani, però. Secondo me se torna, come probabile, secondo me lo faccio. Allora, Borrelli, il livello di difficoltà di domani, realisticamente? Ma allora, la Young Boys finora ha preso un 5-0, 1-0-3. Però, c'è un però, a parte questo campo sintetico dove comunque vi è scappato. È detto realisticamente. No, aspetta, aspetta, hanno ricambiato allenatore ed è tornato, l'allenatore che l'anno scorso ha vinto il campionato, che era scalato nell'Under nella primavera. Siccome stava facendo così male il nuovo, hanno richiamato lui. Adesso, come diceva Inzaghi, hanno vinto nell'ultima giornata. Con l'Ucerna. Con l'Inter non hanno niente da perdere. Per loro è una festa, è una partita contro una grande squadra. E quindi bisogna stare a prendere con le pinze questa partita.